ciao a tutti ciao a tutti amici un bel ritrovati da michela e da roberto ben trovati nell'arte di romi oggi appuntamento del lunedì appuntamento del lunedì ma un appuntamento diverso perché diverso perché non è un mistero che oggi è 8 marzo l'8 marzo l'8 marzo si festeggia la festa della donna e quindi oltre a fare gli auguri a tutte le donne che ci seguono sul nostro canale e oggi abbiamo un po scombussolato i piani perché in genere voi lunedì siete abituati a vedere video tutorial quelli di livello base quindi molto semplici facili da realizzare eccetera mentre oggi abbiamo fatto uno strappo alla regola e ci piaceva omaggiare la donna con come meglio lo sappiamo fare quindi con un fantastico body painting io e roberto abbiamo collaborato insieme per questo body painting perché perché abbiamo unito un po le idee abbiamo deciso di non diciamo di non fare un po di painting pieno di mimose oppure diciamo qualcosa che simboleggia la donna in modo eccentrico abbiamo voluto mettere un po di elementi e importanti per far capire che ricorre la festa della donna per un importante importantissimo fatto storico quindi sicuramente da questa mattina già avrete visto girare la nostra il nostro poster e con la maestria di roberto è riuscito veramente a creare lo sfondo delle cose pazzesche quindi spero che vi piace spero che l'abbiate già visto e se non l'avete visto lo trovate comunque sulla nostra pagina facebook sulla nostra parte sulla nostra pagina di instagram e sul nostro tik tok quindi già vi ho ricordato anche i canali dove potete trovarci tutti sotto il nome dell'arte di romi e quindi io vi faccio vedere come abbiamo sviluppato e quindi poi realizzato questo omaggio alla donna e fateci sapere se vi piace se vi è piaciuto e niente ve lo lascio questa volta non vi faccio vedere materiali i colori eccetera perché è un omaggio è un bonus un video omaggio dove non c'è un tutorial però perché no magari potete anche mandarlo piano piano passo dopo basta rallentatore e provare a rifarlo e allora vi lascio al video di il video omaggio per la festa della donna ciao Oh! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua, io spero veramente che questo video intanto vi sia piaciuto, vi sia piaciuto dall'idea, vi sia piaciuta come l'abbiamo poi sviluppata. Vi ricordo gli appuntamenti della settimana. Allora, il lunedì, a parte oggi, l'appuntamento con video tutorial livello base, mentre il mercoledì, dove prima c'era lo startup, adesso trovate degli appuntamenti, diciamo, chiamiamoli bonus, nel senso che comunque sono degli appuntamenti, dei video tutorial, eccetera, o delle novità proprio nel mondo del face body painting, che potrete seguire tutti i mercoledì. Mentre il giovedì l'appuntamento è sempre con video tutorial di livello avanzato. Però durante la settimana sapete bene che noi comunque in qualche modo troviamo anche dei piccoli spazietti per omaggiarvi con altri piccoli video. Vi ricordo che se volete richiedere uno specifico soggetto per un face painting o un body painting o un disegnino sul braccio, una cosa veloce, potete farlo alla nostra email l'artediromi.gmail.com Oppure potete farlo sui nostri canali, li ho già detti prima ma io ve li ricordo, abbiamo la nostra pagina Facebook L'Arte di Romi, oppure il nostro gruppo Facebook Face Body Painting Video Tutorial, lo vedete perché c'è il nostro loghetto con scritto L'Arte di Romi. E poi ci trovate su Instagram e poi su TikTok, quindi mi raccomando non avete nessuna scusa per non contattarci, ma soprattutto seguiteci per tutta la settimana se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, cliccate sulla campanella così ci daremo in contatto per tutti i nuovi video. E allora da parte mia e da parte di Roberto per oggi è tutto, facciamo insieme ancora tantissimi auguri per tutte le fantastiche donne che ci sono nel mondo, le ricordiamo chiaramente in questo giorno, ma lo siamo in corno. E allora un bacione a tutti, ciao e alla prossima! Ciao!